Per i greci la possessione fu innanzitutto una forma primaria della conoscenza, nata molto prima dei filosofi che la nominano. Omero ignorava la possessione, ma la ignorava semplicemente perché era ovunque. Tutta la psicologia omerica degli uomini e degli dèi, questa mirabile costruzione che solo l'ingenuità dei moderni ha potuto giudicare rudimentale è attraversata da un capo all'altro dalla possessione, se possessione è in primo luogo il riconoscimento che la nostra vita mentale è abitata da potenze che la sovrastano e sfuggono a ogni controllo, ma possono avere nomi, forme e profili. Con queste potenze abbiamo a che fare in ogni istante, sono esse che ci trasformano e in cui noi ci trasformiamo.